L'innovazione è la chiave di volta per lo sviluppo del territorio e la regione Abruzzo sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per la sua crescita. Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele Damario, intervenendo a Pescara al convegno dal titolo l'innovazione che cambia l'economia, nuovi modelli e strumenti per competere, organizzato dalla FIRA, la finanziaria regionale abruzzese. La tecnofinanza tra i nuovi modelli e strumenti efficaci che possono aiutare imprese professionisti a competere sia sui mercati nazionali che internazionali, ha detto Michele Vietti, presidente di Anfir, l'associazione nazionale delle finanziarie regionali che presiede anche Finlombarda e Finpiemonte e l'ACOP, l'associazione coordinamento ospedalità privata e l'assessore Damario ha annunciato importanti novità. Ormai è in dirittura d'arrivo la programmazione 21-27, una boccata d'ossigeno per le imprese ma per l'intero territorio abruzzese. Quali tempi si prevede? Sicuramente siamo in dirittura d'arrivo per l'approvazione del POR 21-27 che rappresenterà per l'Abruzzo un momento epocale. Le risorse in campo sono veramente tante, parliamo di circa 1 miliardo di 80 milioni di euro, di queste ben 385 milioni saranno dedicati allo sviluppo industriale e all'innovazione tecnologica delle nostre imprese. Sicuramente un risultato importante per la regione Abruzzo che mai ha avuto a disposizione una somma tale, parliamo del totale delle ultime due programmazioni e mezzo, quindi parliamo di risorse importantissime. È un momento epocale, ci sarà bisogno di tanto partenariato, di collaborazione fra tutti i vari enti, ci sarà bisogno di competenze per accompagnare questo momento di transizione, ci sarà bisogno di trovare risorse economiche per cofinanziare i progetti che le imprese abruzzesi presenteranno. Ritengo che noi già dal mese di ottobre saremo in grado di tirare fuori i primi bandi per i 385 milioni che rappresenteranno per i prossimi sette anni una dotazione finanziaria fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio.